Physis and the Rendering, abbiamo una mostra che raccoglie due visioni, sia dalla parte digitale che anche dalla parte materica. Far vedere anche i luoghi in una maniera diversa, quindi visti anche con l'occhio dell'artista, ma viste anche con l'occhio del digitale, soprattutto, e quindi della Mixed Reality. Roma, con questa nuova visione, ha una visione completamente diversa e reale, quindi nel senso che anche chi possa così vedere il risultato ha delle attenzioni diverse.